...architetto di Sais e amministratore di Letopoli. Conosco la tua famiglia. Mi manda tua moglie. Dice che forse conosci un certo scarabeo. Non è il caso di parlarne qui. Qualcuno ci potrebbe sentire. Seguimi e ti risponderò. Tuo figlio è orgoglioso di te. Gli manchi. Mi raggiungerà presto. Spero che mio figlio e i miei nipoti seguiranno le mie orme. A dare forma al mondo sono i sognatori. E tu cosa sogni, Bayek? Io non mi concedo il lusso di sognare. Troverò lo scarabeo. Lo scarabeo approfitta dei deboli. Ma io non lo temo. Non hai paura dello scarabeo, Taharqa? Dopo quello che ha fatto a tuo suocero? Ciò che è accaduto a Gupa mi fa male. Se è stata colpa del mio lavoro, se è a causa mia che è stato colpito, che gli dèi mi perdonino. Maestro Taharqa! Attaccano ancora le rovine. Bayek, combatti con me. Tempesta in arrivo. Questo lamento è la voce della tempesta. I cani del deserto lo usano come segnale per attaccare. Seguono la tempesta e la sfruttano per coprire le loro razzie. Stammi vicino! Non farti circondare da quei cani! Non vi lascerò distruggere il mio lavoro! Per di qua! Cacciamo via questi pezzi di merda! Vengono fuori dalla tempesta! Ma quei bastardi seguono la tempesta! Ehi, aiutatemi presto! Fatti ammazzare! Devi morire! Il deserto verrà il vostro sangue! Non hai alcuna speranza! L'hai sentito? Occhi aperti! In due non ci fermeranno. Tremate davanti alla mia forza! Vieni, Mejai! Lotta con me! Asperto! Abbattili! Arverne! Carica! Ci sono andato da nero, vici. Una vera esecuzione, Hato. Merda! Abbiamo guai! Per di te ci è mancato poco. Ehi, felice ad aiutarmi! Vai in vista! Te la faccio pagare cara! Che vergogna! Ehi, felice ad aiutarmi!